Vai, dimmi, vediamo, vediamo. Alla pelle o gambero? Sì. Lo immervano. Ma già sbagliato, già sbagliato. Prima va raffreddato. Hai ragione. E se no non succede niente, ma la mozzarella rimane lì. Quindi, adesso, allora, gambero. Brava. Lo raffreddo nell'azoto, sei sicuro che non mi si dici? Brava, vai dentro, ci basta che, vai ancora dentro un po', basta, basta che stai lì, non succede niente. Fuori. Ancora. È bello frescante, è bello frescante, sì. Vai, vediamo. Velocemente, esatto, lo passiamo a mozzarella, lo rimetti nell'azoto e fai un po' di passaggi a zoto mozzarella. Ti arriva il freddo nella mano? Arriva, arriva, arriva. Però è quasi piacevole in questo caso. Sì. È una fiera. Ok. Perfetto. Adesso ho ancora lì. Io lo uso anche la mattina per la lamina faccia. Ah, certo. Come tonico, no? Esatto.